L'Aquila sempre più verso la pedonalizzazione. Corso Federico II, un altro tratto, diventa off-limits alle auto in base ad una recente ordinanza di Polizia Municipale. Non una vera e propria isola pedonale, specifica all'assessore a ramo, per ora un divieto di transito in attesa del via libera della Giunta dopo la fine della riqualificazione. Una decisione presa nelle more della conclusione dei lavori di riqualificazione dell'asse centrale e dell'adozione di una disciplina complessiva della viabilità che rende necessaria la regolamentazione della circolazione stradale nel corso e nelle aree limitrofe. All'intersezione con via dei Giardini ci saranno anche delle barriere mobili automatiche con divieto di transito anche in diverse via diacenti e limitrofe al corso. Al momento si è soltanto proceduto a fare un'ordinanza di Polizia Municipale con la quale andiamo a disciplinare un divieto di transito sulla parte di asse centrale che mancava, quindi da Piazza Duomo fino ad arrivare giù all'intersezione con via dei Giardini. Si rende necessaria perché dopo la riqualificazione è chiaro che bisognerebbe uniformare il tutto al resto della disciplina, ma l'area pedonale in sé per sé verrà fatta con delibera di Giunta solo nel momento in cui avremo anche la riqualificazione completata di Piazza Duomo. Una città dunque che a piccoli passi si avvicina a una pedonizzazione complessiva che poi è l'obiettivo dell'amministrazione, ma questo solo quando la città sarà libera da tutti i cantieri, soprattutto con aree, parcheggio idonee. Non è l'unico provvedimento perché la presenza dei cantieri rende necessari dei cambiamenti anche attorno a Palazzo Margherita. In Piazza Santa Margherita sono diverse le novità. Per quanto riguarda l'area di Palazzo Margherita abbiamo lasciato ovviamente da parte tutta quanta la Piazza Palazzo, ma siamo intervenuti sempre con una ordinanza di pulizia municipale per l'area di Piazza Santa Margherita, quindi l'area antistante dell'edificio dei Gesuiti, più nota come Piazza dei Gesuiti. Lì anche ci sarà una sistemazione dei parcheggi, una delimitazione della piazza, proprio per permettere poi ai mezzi di poter transitare in sicurezza e soprattutto alla navetta, che è indispensabile in questo momento in cui si ha ancora tanto bisogno di stalli di sosta. Grazie.